Una bambina aveva una paperella, le dava da mangiare curando proprio quella, la sua ciccia bella. Ma un giorno ciccia uscì lasciando sola la poverella. Ella, correndo verso l'acqua bella, volò dalla stanza in un lago pieno di speranza. Signor Presidente, abbiamo appena ricevuto la notizia che il pianeta è stato attaccato dagli alieni. Ah, ok. Signore, hanno già raso al suolo alcune nostre città. Se non facciamo nulla, ci uccideranno tutti. Ho capito, poi ci pensiamo, sono intrippato con la paperella, voglio sapere come va a finire. Signore, ogni momento che passa centinaia di persone moriranno. Tutti dobbiamo morire prima o poi, ma questa paperella può ancora vincere la sua battaglia. La conosco già questa storia, signor Presidente. La paperella muore. Oh mio Dio, ma è orribile. Signor Presidente, gli alieni, abbiamo subito un attacco. Vuol dire che i genitori di questi bambini potrebbero essere morti? Adesso passiamo a un'altra storia. Rape strozzolo. Rape ronzolo, signora. Dobbiamo tornare alla casa bianca. Io i bambini non li capisco. Mi ricordo di firmare la legge sull'aborto. Sì, signora. Sì, signora.